Sindaco, qual è la situazione ad oggi a Francavilla al Mare per quanto riguarda l'emergenza sanitaria? Allora, al momento la situazione si è stabilizzata dopo un momento di grande crescita dei contagi, in questo momento è abbastanza stabile. È comunque preoccupante perché abbiamo superato il numero di 100 contagi, la maggior parte dei contagiati è vaccinata, per cui ha sintomi lievissimi, sintomi influenzali, c'è qualche ospedalizzato e mi risulta che si tratti quasi sempre di persone non vaccinate, quindi il mio invito torna a essere quello di vaccinarsi, ma non basta perché bisogna sicuramente rispettare le regole del distanziamento e quindi torno ad invitare tutti a farlo, soprattutto in questo periodo in cui ovviamente durante le festività c'è un grande desiderio di riunirsi in famiglia e di riunirsi con gli amici, quindi il mio invito è sempre quello di rispettare le regole che ci vengono imposte, mantenere il distanziamento, incontrarsi con familiari o con persone che si vedono frequentemente e non allargare troppo il giro per non rischiare poi di ripartire nell'anno 2022 con un'impennata di contagi. Ecco, Sindaco, il rischio è questo che dopo queste festività insomma la situazione possa essere ancora più delicata, potrebbero esserci dei provvedimenti del Governo che poi ricraderebbero sugli enti locali? Il rischio è questo, dobbiamo scongiurarlo, quindi penso che insomma ribadisco, sa alla responsabilità di ognuno di noi cercare di evitarlo, io come Sindaco mi atterrò a tutti i provvedimenti governativi perché ho visto che spesso emettere ordinanze che vadano oltre le decisioni del Governo in genere la confusione nei cittadini e anche difficoltà nell'interpretare le ordinanze, quindi credo che debba essere il Governo o eventualmente la Regione a dettare delle regole per tutto il territorio, anche perché loro sono in possesso di dati e di analisi che a volte non arrivano anche a noi.